Ricordate che Stagnia salta all'intoppo? Grazie Daniel, speriamo bene dai, ci stiamo arrivando più o meno con la scheda video. Siamo a metà, però dai, grazie Daniel, gentilissimo. Top Doneto di dicembre. Si è appena inviziato. Oh no, si so, oh no. Oh no, l'ultimo però non è storto. Grazie, grazie Daniel. Il sole enigmista. Va bene, Daniel, però scusami, scusami. Vabbè, i coglioni, Fabio. No, ho detto no, rompa i sotto. Allora, non toccatemi tutti i miei... Mettate calmi qua, eh. Quanto manca? 9, 10 minuti? Vabbè, ripeto, chiudo 30. Più che altro che si gioca un altro po' in compagnia, non so. Con Cortex, tu veni abbannato, costitato. Andato in pubblica piazza. Chi mi ha chiamato? Ah, no. Dio, chi ha chiamato Alan? No. Sono primo! Chiudiamo poi... Io penso sia legale. Legale sì, ma legale è bannaggio. Allora, ragazzi, io ve lo dico ufficialmente. Anche se in schedule c'era scritto che domani facevo live, non la faccio di pomeriggio. Eh, no, si stanno. Mi rifà domani sera. Me la faccio domani sera alle 20.30, quando chiude il look. Giacomo, tu fai live domani. Quindi, ok, faccio 20.30 a 21.30. Quindi, ci vediamo direttamente domani sera. Magari con Worms Rumble, guarda. Tu, ma... Eh, sì. Eh? Eh, sono passati tutti di là, adesso me lo alzano dal lato sbagliato. Me lo alzano? Crosta, perché le mani... Ma ti piace? No, è dal lato sbagliato. Eh, ragazzi, state calme. Non così! Sono incredibilmente vivo. Incredibilmente è storco dal mio punto di vista. Domani faccio Worms Rumble, poi modifico la schedule su... Sì, sì. 20.30 a 21.30, perché Luke fa la finale 20.30, quindi... Vediamo, dopo quello di Luke ci sono io. Luke, sei qualificato te? No. Fabio? Sì? Tu sei qualificato... Sì, sì, sì. Io arrivo col treno. Non faccio a parlare. Arrivo col treno della ghiaia, ma arrivo. Io sono morto, ragazzi. Luke, va beh, ma hai subito un livello. Sì, esatto, è già tanto. È già tanto. Bravo, Luke. Hai capito? Perché sei scarso, Luke? No! Fretino. Sei scarso e non sei rubare, quindi... Ti sta spottendo l'uovo, Fabio? Io interpreto le sue parole, non ti ho mica detto niente. Interpretati. Passiamo altro se vuoi giocare con il pro. Ma non vuoi... Vabbè. Io gioco sempre volentieri con te, Luke. Lo sai, ad Amta, ad esempio. Lo so, lo so, Andrea. Tu sei una persona impeccabile, guarda. Io ho i capelli, dopo tutto. È vero. I capelli stanno bene dappertutto. Tranne sulla piadina stanno bene. È come la piadina... Che capelli? Tranne sulla piadina e i capelli. E il resto stanno bene. Quindi sulla minestra, sì. Minestra. 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 La risposta giusta... La risposta giusta è minestra. La risposta giusta è la cià. È come che la dici piadina, il signorino parla romagnolo. Perché te quella chiami pane schiacciato. Piadina? Piadina. Piadina. Allora, un cocomero con un'arancia. Siamo vicini. Non c'è un tucano, vero? No. Grabbaci, Giacomo. C'è un pappello da... C'è co... C'è co... C'è co... C'è co... C'è co... No, Gallina parla così per colpatura. Perché Gallina, all'inizio, è una ragazza normalissima. Che aveva dei sani principi. Poi è andato tutto a scatafà. È un po' ogni tanto Luke che parla come me. Sono una disgrazia umana, ragazzi. Sgrammaticato? No. No, stupido. Sgrammaticato Luke, no. Com'è la ciliegia? Non è qui! Ah, ma io sulla ciliegia. Mi sono spostato perché mi sono dimostrato sulla ciliegia. Oh, ma c'eri già. Ah, c'è Anfi. Arancia. Perché ci sei buttato uno? Piega, mela, uva. Godzilla. No, dai, ho preso il contro. Oh, God. Non so niente, ragazzi. Dove sono io, guarda. Giacomo, vieni qui, fatti toccare. C'è il partito pelato. Questo gioco è veramente... O uno sbaglia e sbagliano tutti, quindi resti con due, o non sbaglia mai nessuno questo gioco qua. No, intanto qualcuno è caluto e si è buttato. Due sono molto sicuri e qualcuno è abbandonato. Prima del... È vero, non posso più volare. A me piace cittare. Cittare. Con 23? No, no. Perché? Allora, quindi dovete creare un po' di chi posso passare. Mi raccomando. Con sta grandissima. Con i toni lavorati. Eh, certo. Sì, sei sicuro, crossroad. Cosa sono le mura del Sastrad? Gioco di merda. Le mura del Sastrad sono cadute. Perché? Da quando le lucci al tole sanno cadute? Le mura sono di Nesastre. Questo non ci segue a giocare a D&D? Ma col cazzo, eh? Posso riprendermi i soldi che ti ho donato? Quale ho donato? Come quando hai donato? Ho fatto 10 euro. Ho donato bilancio. Ah, vero? No. Capisco che altri ti hanno dato di più. Se non vuoi 10 euro, me li riprendo. No, no, no. Mi fanno bene anche un euro, crossroad. Anche un euro è ben accetto. Guardi, ti voglio proprio dare. Allora, ti dono meno di un euro. Non puoi. 99 centesimi. Come non posso? Non puoi donare meno di un euro. Sto facendo tutto io qua, come sempre. Faccio il cazzo che mi pare. E guardami dalla micia! Il vostro re deve passare. Il re in canota. Porco! Ma non il re porco, il re in canota. Giacomo! Fabio! Chi è? Luke! Ma ok, ho stato... Cretino! Ho fatto 5 euro. Primo! Grazie. Sì, effettivamente sì, grazie. Ah! Ce l'ho fatta. Fabio! Non ce la faccio, ragazzi. Faffanculo, non so. Sono un cartazzo. Grazie, Luke. 1985 bit in totale. Gentilissimo. Gentilissimo. È la finalità? Eh, penso che sì. 13? Ricky? Com'è da di fare? Infatti, lei è di 1985. Ci ho fatto a casa adesso. È un po' come da Ricky, non posso donare più. Esattamente no. La finale in 13, dai! Potevo fare il 1884? Eh, ma il canale di Fabio. È troppo perfetto per cominciare. Manca Crosstantin, che è a FFM a 1154 bit. Eh, non li compri i bit, Fabio. Prosto, siamo davanti, sei pronto. Eh, non li compri i bit. Non li compri, Fabio. Corri, è morta. Corri. È morto, Fabio. Non li compri. Eh, guarda, fammi spottare il Giacomo, che gli stai sempre. Ma la palla! Sei rotta la palla! Eh, fai cosa se sei rotta la palla! Eh, fai cosa se sei rotta la palla che si coppa. Sono caduto in un inbuto, manuto. Ma Fabio, non li prendi bit, cioè, non... Che ogni tanto quando c'è lo sconto, li compro. Perché qua, se aspettiamo che mettono le pubblicità... Ho preso due palle in the face, manco fossi la torno stara. Giacomo, l'aspetta di prendere quello di Lotto-Balilotto. Eh, adesso si chiesa. Se una palla, c'è il pilone, no? Eh, no, però il Falmantains non mi piace per niente. Non sono mai arrivato così lontano. Ah, vedi un pomodoro. Ho preso tre finali, guarda. Sto giocando veramente come la Juve. Eh, no, se avessi giocato come la Juve, una la voglio annullare. Qui si torna a cash, non bit. No, vabbè. Il bit arriva intero a noi streamer, cioè, è un centesimo, è un centesimo. Il bit è meglio, però in realtà, cioè, la tassa la paghi a monte, invece con l'altra la paghi dopo che se la ciurano, me la ciurano. Signori, mancano un minuto e trenta alla fine della dodici ore. Io voglio aspettare un minuto. Sì, arriviamo direttamente al... Alla fine... No, no, allo scoccare da dodici ore, così vedo se riesco a rifare il timer da zero. E continuiamo. Che dite? Ci riposiamo due... Ma andiamo avanti fino alle 22 e trenta? Sì, sì. Oh, ok. Raido Costa, perché effettivamente, dai, per mezz'ora... Vuol dire, non è un'ora in più, un'ora già era un po' più pesante. Mi sono mutato per sentire l'audio di Luke, scusami. Cosa? Non ha... Ah, no. Non ne ha niente di... Vabbè, finché non l'ascolto non lo so se è bello o no, Luke, ti pare? Aspetta un minuto e rispondo a... Hanno rimandato di nuovo... Star of Punk? No, non credo. Però hanno rimandato di nuovo l'episodio 4 di... Del mare infinito. Ma sì? Vabbè, Nathan, non c'è. Ma io qui c'ho la... Ma io su Telegram ho la GIF di Corsa con il capezzolo. Come? Luke, Fabio, ti calmati. Ma perché? Che la GIF non esiste, va bene? Come non esiste? Luca, non esiste. Io non è possibile che quando apre la cosa delle GIF c'è la giudice che versa l'acqua o fuori al bicchiere. L'hai chiamata ieri da Telegram? No, Luke me l'ha mandato una volta. Evalina ne avrà 8 copi sul computer sta qua. Ragazzi, è finita! 12 ore fatta! Fatta? Hai vinto, Fabio. 12 ore fatta! Ti metto una musica di vittoria adesso. Grazie, Luke. Aspetta. Minchia, non ce l'hai minimamente... Vediamo se riesco a giungere i 30 minuti. Manco per il cazzo. Ragazzi, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, non avrà... Grazie. Add time. 30 minuti. Set time. Ma col meno! No, mi è partito 15 ore! Aspetta! Meno un'ora! No! Ah, aspetta, aspetta! No, 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 no! Fammi mettere 29 minuti, anzi. Maratona è stendibile, is real! 27 ore di maratona! Ok, ci siamo, ci siamo. L'abbiamo sistemato, ragazzi. Ok, adesso lo vedo. Adesso hai messo 30 minuti. No, 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 ok. Ora è sistemata, ragazzi. Però la 12 ore è ufficialmente... La 12 ore è ufficialmente terminata. Eeeh... Ma carina. Eeeh... E sei vivo? No, no! No, no, no. Ciao Moreno! Buona live! Finale 22.35 dove lasciò... No, no, sono 20 minuti. Comunque, ragazzi. Intanto vado a continuare a giocare. Questa... Questi sono minuti... Sono minuti supplementari. Non pensavo di riuscire a farla. Cioè, ve lo giuro. Cioè... Non è stata facile... Organizzarla. Nel senso... Per trovare dei giochi... Chi è che manca di mettere pronto? Così giochiamo. Non è stata facile... Organizzarla. Scusate, stavo ascoltando il discorso vittorioso qua. Non pensavo di... Che andasse così. Bene. Io vi devo ringraziare tutti voi che invece... Mi avete seguito, ovviamente... Dall'inizio della live. O comunque siete passati molto spesso, ragazzi. Quindi grazie mille veramente. Eeeh... Niente, non so che... Grazie. Non so che dire. Grazie, ragazzi. Grazie mille. Facciamoci quest'ultima cavalcata di 27 minuti. Dove poi finirà... Finirà definitivamente a 12 ore. Definitivamente... Definito. Sì, 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 sì. Questi 30 minuti sono di recupero per far vincere la Juve. Servono per quello. Eh, sì. Ah, guarda, guarda. Prossimo step 12 ore più esatto. Marathon è stendibile, 5 minuti ogni sana. E fare una 24 ore. Non ce la farei a fare una 24 ore, sai? Devi andare in casa... Devi andare in ufficio a Torino, come ha fatto Gatto. Per fare una 24 ore. Ma sai, forse dal vivo con qualcuno dal... Ma porca puttana! Ma tu ha... Eh? Allora, ragazzi... Croft! Cosa c'è? Hai fatto cadere! Non è vero. È vero. Io non l'ho visto. Che ladro. Che ladro. Non è che posso preoccuparmi dei quelli che cadono? Cavallo! Togliti dal... Ragazzi, quando saremo... Cavallo goloso? Quando ci troveremo da qualche parte... Facciamo una 24 ore. Per me si... Quando finisce la pandemia... Si, potrebbe fare veramente... E in mezzo ci sono una 24 ore. Ci sta! Eh, il problema... Allora... Il problema sono i... Trovare i mezzi per fare la 24 ore. Eh, prendo la 81, va bene. Che tiro... E PC di nata! Sì, io lo farei... Ma così come abbiamo deciso che... No, il bastone! I controlemme... I controlemme... Dal vivo faranno... Cos'è? Che cazzo era? Che sigla era che dovevamo rifare noi? Ma porco, PC! Hai pregato la ditta, no? Ah, sì! Dovevamo fare la sigla della pregata ditta... Dal vivo, noi. Vabbè, vado. Oddio. Pi, pi, pi... Che cazzo mi grabbi il culo? Non mi classificherò mai... Ma dai, quel bastone! Il bastone è un bastonato. Dobbiamo fare dal vivo la sigla della pregata ditta, quindi... Tu ha... Sorella incrostata! Guardo gravarmi il cazzo, è puttana di mezzo. Dai, che non è difficile. Perché ci muoio proprio? No, no, non... Le donne rispetto... Alcune sono un po'... Non è perché donna, ma è perché puttana. Ma aspettate, raga, ma non mi funziona la chat? Perché voi state scrivendo... Perché io all'ultimo ce l'ho bloccato con Ricky. Perché... Aspettate. No, no, sto spendo. Ma io vedo un massaggio di mollica come... Eh, no, io no! Per questo non... Eh, aspetta! No, adesso... Eh, eh... Ciao, Alessi. Scusami, ti sto leggendo dal bot. Tu sei sminchiata la chat di Twitch. Bene. Io mi sono classificato, eh. Eh, ora... Ora sistemo, vabbè. Eccomi. Nooo! Ok, mi qualifico anche io. Ecco, sistemo la chat. Mi qualifica me. Do you want a plusa? Guardami. Ho sbagliato. Ma dai, veramente... Veramente sei bloccata la chat? F5? Che fatica applaudire. Eh, non mi ricordo i comandi. Ok, adesso vi leggo, ok. Corri, Luke! 12 ore... Ciao, Alessi. Grazie mille. Quello che dice anche Luke è vero. Cioè, ci sono alcune... Sette le donne. Mi sa che... Persone che sono... Cioè, se una persona è terribile, a prescindere del suo sesso. Scusami? Ma sono le azioni che compie che la rendono... Terribile. Luke, dai che ce la puoi fare ancora. Ok, fa... Sblocca mi questo, va bene. Ma se vuoi... Fa schifo, no? Perché Luke, o uomo... Ma perché... Luke, cosa ho visto? Dai, dai. Oh, ma ci sono i controlemme. Bentornata, Lobby. What the B, Lobby? Lo smettiamo di cadere, Luke. Magalli. Magalli? No, quello è il mio personaggio su FIFA 11. Bon. Si classifica il cavallo. Dannati i cavalli. Che persone orribili. Che persone di merda, i cavalli. Cavallo o volum? No, mo' lì, che non mi fastidice per niente. Davvero. Robby! Non è come golf, da fin fine. No. Perché non abbiamo fatto neanche mezz'oretta di golf, Fabio? Ma che schifo il cazzo. È vero, dovevi concludere questa mezz'oretta con golf. Siamo ancora in tempo, uscite che facciamo golf. Fatta, chiudo, Fabio. Voi siete pazzi. Vabbè, voglio dire, hai fatto Overwatch. Solo 25 minuti. Sono 25 minuti di troppo di Overwatch. Vabbè. Qualcuno dice contro l'em di stare calmo. Perché contro l'em sono morto qua? Non li posso bannare? E che pure sub contro l'em. Come sub? Eh, perché oggi quando è partito l'hyptrainer, a caso è arrivata la sub contro l'em. Questo non è giusto. Nei primi regali sub sono stati conto. Questo si sfonda. Ah! Ma... Si sfondava. Ducasa è fuori da team pistoloni. È nata. Ma si è giocato che è nata. Guarda com'è sbordolante. Ma tecnicamente è lui contro l'em. Sì, è vero. Che dolore! Signorina. Ma alzati! Eh... Ho fatto 45 minuti di Bowel Trouble. Ma tu sei nata. No. No. Leo. Nello. L'ho fatta! Qualificato! No, tu che lo farei Fabio così non posso andare. Ma gabbati il culo! Luke ci sei? Lui non è nata, è Ulmo. Ti sei qualificato? Ma dove è vero? Ma sei che hai ficcato da prima. Ah vero è il secondo gioco questo scusso. No, questo piglia per il culo. No, non piglio per il culo. Tu l'ha fatto 12 ore sto qua. Non piglio per il culo. Che cazzo di life. Com'è che si riporta su questo gioco? Va che ti prenotiamo un altro esamino, eh. Eh, intanto ce l'ho da fare l'esame. È l'udito. Devo fare l'esame a Torino Laringoiatrico. Oh no, io l'odio questo. Dai, adesso Clostar gli spawn un coso d'oro davanti. Non funziona così, spawn uno solo in aria. Sì, quello in aria. Quanto Nathan in questo, quanto Lemme. Contra Lemme, dimmi qualcosa che solo il Mestro di Ulmo direbbe. L'ha appena detto, ho scritto adesso da me 5 euro. Quello non lo dice il Mestro di Ulmo. Questo dici tu. Allora, dov'è il mio, il mio, io voglio l'oro, eh. Oro, oro. Stai fermo. Lancio palla di fuoco. Tu dici che il Mestro di Ulmo direbbe lancio palla di fuoco? Eh, ce li ha da lanciarci. Ladri! Ladri tutti. Eh, dai, basta. Lasciam perdere sta idea di... Niente. Due. Adesso è riuscito a passare in un anello, incredibile. C'ha fatto il culo. Quattro. No, ragazzi, niente proprio. Il Canelli? No. Nemmeno uno. Però sei io, io non sei un orefice. Non sono Yuri Keki. Keki Yuri, Yuri Keki. Oh, ye, ye. Infatti due, cazzo. Adesso la do a pistolare il bagaglio per fare la magia. Ah, quindi il Contro Lemme è dentro di questo. Ma perché continuo a cadere stasera? Ah, è coglione. Quello è una frase chiaramente mia. Vedo il copyright dei Contro Lemme. Tu sei il Contro Lemme. Non al momento. Però lo sono in determinati momenti della mia vita. Ah. Manca un cazzo. Ma come uno? Beh, ne ho presi cinque. No, io, io ancora ne ho... Sono passato, sono dentro, dentro. No! Mi stavo spawnando quello d'oro davanti. No, dai, cazzo. Senti, mi ha spawnato quello d'oro davanti mentre saltavo. Però io mi ho smottuto contro. E pensa te che mi ha spawnato dietro, giusto perché mi sono allontanato un secondo da lì. Sarebbe che a me, a me... Tocca, troia, nell'odoro. C'è questo danno perché volevo saltare e ho beccato il bordo e sono caduto. Che cazzo? Ma cos'è una... Ma mi bandate contro Lemme, se impazzite? Eh, non posso. E' una query, quella, contro Lemme. Non ce la farò mai, sono solo a tre. E' sono due. Perla camminata sulla tastiera. E' bravo, è bravo questo contro Lemme. No, io nego, Perla sta dormendo un'altra parte. Il mouse. Vabbè, vaffanculo. Cazzo, c'era quello rosso. Che gioco di merda, questo. Gioco di merda. Siete tutti eliminati? Sì. Non è me? Non è me. Tramme me, tramme me, tramme me. Fabio, mi dici qualcosa di natalizio, che... Sì? Te lo dico subito una cosa di natalizio. Non ricordavo diverso il Natale, però... Anche questa non è male. Eh, scusa Molly, voglio... Va bene così? Eh. Eh? Cosa? Va bene, no, no. Io preferivo che tu non usassi la soundbar, però... Eh, soundbar, bar, bar. Sempre sta cazzo di soundbar. Eh? Tutti sti... Ah, iniziano le bellissime notizie sul vaccino. La Pfizer, pronunciata perfettamente, spedirà soltanto 50 milioni di dosi di vaccino, la metà delle 100 milioni previste. Molto bene. Quindi cominciamo a vaccinare i ricchi. Beh, certo, cosa vuoi vaccinare i poveri? Cioè, mai. Entro settembre è possibile vaccinare tutti gli italiani. Sì. Sì, cazzo. Con che soldi? Con che dosi, soprattutto. Eh, sì, da quanto lontano, però... Ho provato, Giacobbo, cioè, se non ci provi non puoi far gol, no? Non ci possono arrivare, da lì ci sta continuando a provare. Che coglioni. Non grabare il cazzillo. E fra qualcuno non lo so se non si arriveranno mai. Lyukko! Ma che cazzo tocchi? Ma niente, allora? Eh. Eh? Cos'è? Cosa tocchi? Lyukko regala tre sub ad Alessia, Aliezer e al bot. Grazie, Lyukko. Aliezer è diventato sub di Fabio. Di nuovo! Per cinque mesi, Aliezer, più lato di Sis. Grazie, Lyukko. Adesso è qua, dice... Che cos'è mi regalato dal sabato dal pelato, esatto. Grazie, Lyukko, gentilissimo. Io volevo le morte, eh... Eh... Ma non le condividi a tutti? No. Lo so, per cui. Eh, scusatemi. Eh, dipende. E oggi... Non è colpa tu, guarda, è doni e chi le premia a prende. Grazie, Lyukko, gentilissimo. E cosa lo metti indietro, coglione? E' il Natale, quando arriva, arriva. E' già fatto il regalo di Natale? Sì? A mia madre gli ho comprato un tablet. Già è sotto l'albero. È vero che è natale si riguarda la roba, cazzo. Eh, sì. I miei mi prendono un partafoglio. Ho detto, comprate un portafoglio. Partafoglio? Un po' con soldi dentro? No. Siamo 28 e i morti sono 5, esatto. Miei padre, invece, abbiamo preso la TV, ho detto, non voglio nulla. Abbiamo comprato la TV. Che TV le avete preso? Un 50 pollici Samsung 4K con digitale e satellite di seconda generazione. Digitale extraterrestre. Digitale extraterrestre. Stiamo cambiando tutte le TV, piano piano. Tranne quella di camera mia, non la cambio, perché compro un decode, piuttosto. E' salvata, che miracolo. La mia è un 40 pollici 3D. Sì. Porco! Bravo, eh. Ma per vedere, farlo un po' coso. Non offendere, non guardo quella merda, io. Vai, ah. Vabbè, ma i miei compagni sono tutti incoglioniti, mi sembra tutti Fabio. Goal? Non ti ho ancora visto fare gol. Eh no. Attacco da solo e guarda, sono tutti fermi. Eh, sì, 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 è 4K. Ma si saranno disconnetti. Ma i miei non guardano, follow mia madre. E la rimprovera... Avete un giallo che è fermo in mezzo al K. E la rimprovera o ti continuo, mia madre? Quando vedo... 4K appelato. Sto provando, ma sono dettereamente da solo. Ma com'è 4K appelato? Ehi, fischio. Ma stanno fermi immobili, ma perché? Eh, ma io è persa, però, cioè, se non ti muovi è ancora più persa, cioè. 4K appelato. Eh, scusami, Ricky, sì, sono incoglionito. Capisci a me, eh? Ah, io so che faccio l'ultima, poi stacco. L'ho capito, Ricky! L'ho capito! L'ho capito. È l'inizio del terzo caso, quindi adesso ci sono tutti i momenti di dialoghi normali, insomma. Quindi non c'è... Normale, su Daga. Non c'è ancora dell'omicidio, non c'è ancora della roba. Mi ha detto Duke che ci saranno scene NS... FW, sì. Quanto do... quanto è lungo come gioco, mamma mia. Sette giorni alla fine della stagione. Mettete pronto, ragazzi. Io sono l'unico che è pronto in questo momento. Ah, io non sono uscito, proprio. Ma se... cosa sta perso? Eh, non si meritava. Dai, che mancano 12 minuti alla fine di tutto. 12 minuti? Già sono quasi 20, porca puttana. Sì, facciamo l'ultimo, è il tempo che poi risalutiamo, ringraziamo. Ciao, Ciii. Siamo alle battute finale. Siamo alle battute finale. Ma Crosta cosa regali per il Natale? Te cosa mi hai regalato per il compleanno? Un cazzo, un amico. Eh, allora cosa vuoi da me, non ho capito. Ma Natale è Natale. Eh, Natale è Natale. Tu cosa mi regali, Crosta, per il Natale? Tu cosa mi hai regalato, Crosta? Hai fatto gli anni, quest'anno? Eh, sì. Un po' prima di te, anche. Ma è legale sta cosa. Eh, penso di sì. Pensavo che li facessi il 29 febbraio, una volta ogni quattro anni. E invece? Eh, scusa, amici, ma pensavo che te l'ha allontanato. Non so, ci penso. Una canotta? Fatta, firmata. Vabbè, da me. Da me. Eh, vabbè, Ciii, da quanto non scrivevi? Magari te l'ha allontanato. Ti prego, ci sono. Ho chiesto, mi regali, per Natale, non so cosa comparo alla gente. Io ho misura, Fabio. Eh, Andrea, scusami. Un cazzo, un ordine pelato. Non dimmi i flaganali, perché io non li so decidere. No. Rispondo come risponderebbe il mio amico Andrè a Bevoni. Un cazzo. Chi? Un cazzo, una micchia. Sembra un uomo molto saggio, lì. Eh, sì, un coglione, sai. Eh, no, non è obbligatorio, regaliare la roba, cioè, non lo faccio. No, Ciii, ma vai tranquillo. No, Ciii, adesso sei obbligato a scrivere. È che nel canale di Fabio, devi fare quello che vuole fare. Ma che cazzo dì, vabbè, vai a cagare. Ti bandisce. No, mi bandisciti il cazzo. E ti proteggo io, non ti preoccupare. Siccome è scritto come procedo, ho pensato che era tornato, l'abbiamo salutato di nuovo. Ma salutami questo. Eh, hanno toccato in aria, penso non sia legale. In aria, non di Beethoven. Il cross è molto genuore, è il braccino corto e non solo il braccino. Non sei il genovese. Ma, ho detto che non è necessario regalarmi la roba per Natale, cioè, devo dire, regalatemi tutto, scusami, cioè. Sai cosa c'è Molly? Che poi a un certo punto non sai cosa... Ho letteralmente detto il contrario, cioè. Non sai, non sai cosa regalare, non sai cosa regalare. Vieni qui, fatti amare, non superarmi. E' la la salvo, vero? No. No. No, c'è una piattaforma pelata qua. Tuccano di merda, inclin la piattaforma dalla parte sbagliata. Cadete tutti, stronzi. Le mani fatte di me regalare in Natale? Ma se uno vuol fare regalare in Natale, lì mi riprendo volentieri, è un regalo, è un regalo? Sapete cosa c'è? È un po' come... Come quelle persone che ho fatto i regali di compleanno. Se uno vuole fatti i regali e siamo persone così, conviene mettere la wishlist di Amazon e mettere questo. Se uno vuole fare un regalo, lo prende da lì. Come procede, ragazzi? Cioè, veramente... Cosa che chiamo Fabio? Fabio, c'è... Ti ho detto, Fabio, ogni cosa ha il suo logo e il suo tempo. Come le bici del professor Occhi. No, vabbè, sì, non è successo chissà cosa, è stata 12 ore. È stata una normale 12 ore, dove io ormai sto perdendo la voce e mezzo. Doveva conosci solo 8 minuti. Ma basta, queste piattaforme pelate. Ce l'ho fatta. Eh? Corriuk! Cosa accorgia la piattaforma sparta? Niente best off di sole. Ma, sì, io di tutte le clip che tu hai fatto, ne ho dovuto escludere alcune. Ma a me non mi interessa se il best off viene lungo. Non così. Non mi interessa. Tanto... È un best off, non ora è un... Come ti è uscito dal gioco? Sei uscito dal gioco? Come? Come ti è uscito dal gioco? Hai fatto alte per 4, Luke? No. Grazie, mi è uscito dal gioco. Sì. È il momento. Ma noi ci siamo qualificati almeno tutte. Sì. Quale entusiasmante gioco ci farà questa sera? Oh no. Io sto fermo, eh. Le Orde come secondo gioco. Ah, il gioco delle palle. Devo finire di aggiungere alcune clip, sì. Siamo rossi. Se riesco domenica magari... Domenica iniziamo alle 21 e facciamo la cosa delle clip. Come l'altra volta. Non basta, Fabio. Fai vedere. Eh? Non basta, Fabio. Ma i rossi perché sono deficienti e spingono le palle blu dentro il territorio di me? No, ma è finito, sì. Manco le clip le hai di domenica. Ok, proteggiamo le palle. Menica. Oh, le ho portate vento. Menica. Da quando ci sei? Ti sei contito. Ti sei contato. Ti sei contato. Ti sei contato. Ti sei contato. Ma che culo. Tiamo. 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 Che ha pettato. Ce la ciulano, ce la ciulano. Che ha tirato un cazzo. Menica. Tito. 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 Beh, però ho altre 3-4. Sì, no, vabbè. Tanto abbiamo finito. Cioè, è finita queste partite. No, mi dispiace. Mi è proprio uscito da giorno. Non avrai vinto, vabbè. No, cosa è quello che vincevi? Cazzo. No. Ho pagato per farti vincere. Ma stiamo perdendo. Mi stanno rubando tutte le palle. No, siamo i primi siamo. No, si sono due. Ora, sì. No, ora no. Siamo in pareggio. Ok, abbiamo perso. Come? Ma stava vincendo, come? Niente, signori. Non è rimasto nessuno a proteggere il campo. Ci hanno rubato tutto. Ci hanno rubato. Va bene. Facciamo altra F4. Manco 5 minuti e 50. No, no, mi sei rimasto. Perché sono stato. Facciamo 5 minuti di rilassamento. Poi mi ride a cross. Poi mi ride a cross. Tanti. Signori. Fabio, come ti senti? Parla ai nostri... Stanco. I nostri intervistatori. Come si sente? Come è andata questa... Questa... 12 cazzi, Fabio. E allora. Salve, salve. Sì. Calvizia, ma... Va bene, Fabio. A parte che è andata molto bene e io, come ripeto, vi ringrazio ragazzi. Perché è andata bene anche per... Grazie a voi. È andata bene perché tu sei andato bene. Non è... Non ho più la voce. No, non ho più la voce. Ho un mal di gola croce adesso. Sto muovendo di sonno letteralmente. Quindi... Finita sta live, devo andarmi a sistemare un po' di cose di là e poi mi ficco nel letto. Ficchi nel letto. Devo dire la verità. Non ho accusato la stanchezza fino a un'oretta prima della fine. Finché alle nove ho iniziato a accusare... Veramente la stanchezza, grazie a Dio, mi era andata... Era male liscia. Ficchi, sembri la stanchezza incarnata, Fabio. T'ho appena visto. Sì, non è... Fai a dormire, Fabio. Non è facile fare una 12 ore, ragazzi. Non lo so, non l'ho mai fatta, però presumo. Per chi non è abituato a farle, magari se ne farò un'altra... E pensa quelli che fanno solo maratone. Eh, Crosta, quelli che fanno solo maratone e vanno a dormire le 5 ore, sei capace anch'io a fare la maratona? Vanno a dormire le 5 ore? Eh, le 5 ore notturne, che chiudono, mettono altri. Quello è facile fare la maratona. Le varie maratone sono... Ma dovrei stermin più di quelle 5 ore, scusate. Stermin ne 8. Contro l'emme? Eh? E praticamente quel termine l'ha bannato, ma lui è in modo e lo può dire, cretino. No, che dire. Io, ripeto, ho la testa che non mi connette più, però, visto che mancano 3 minuti, ne voglio iniziare a ringraziare. Innanzitutto, mi conto l'emme. Crostantin, prego, prego, è un vero piacere essere presenti in questo evento. Luke, Ricky Shimano, Nathan, Giacomo, alla fine tutti siete passati. Veramente siete riusciti a passare tutti, sia in chat che in vocale, quindi ringrazio veramente Contro. Ringrazio Luke, Ricky, perché hanno sacrificato la loro live per poter per potermi fare questa adolescione. Alan! Grazie, Alan. Perché sei stato bravo. Grazie. Thank you love. Grazie, ragazzi. Grazie, Alan. Sì, inserisci. 1230. Hai superato Crostantin! Come? È il terzo, Alan. E Crostantin perde... Attenzione. Crostantin perde il beige del... Perge... 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 Tu lei l'hai fatta, sì, l'hai fatta da me. Anche Luke l'ha fatta da me, però vi ringrazio, perché avete tolto la vostra live per farmi fare la 12 ore, quindi grazie. Ringrazio Cesar, perché è stato qui da tutta la 12 ore. Bravissimo, grande Cesar. Tutta. Quindi grazie. Ciao, Crostantin. Ci sentiamo un tappo, grazie mille. Quindi grazie, grazie Cesar. È stato in vocale le prime due ore di live, quindi avete sentito anche Cesar, per molti di voi per la prima volta. È stato con me tutta la live, moderare tutta la live, quindi grazie mille. Grazie, io adesso non posso ringraziare tutti voi che avete donato qualcosa, siete veramente tanti, anche che scorro un bot, talmente tanti bot dicono robe che... Aspettate, però voglio farlo. Facciamo, togliamo... Guardi, guardi, lo guardi dal... No, no, tolgo il redemption. No, no, tolgo da qua. No, vabbè, da Streamlabs... Ok. Ci siamo. 12 ore, 12 ore, 12 ore, 12 ore, ecco lì qua. Cinque giorni fa... Io ringrazio Ricky per la sub. C e C, perché ha fatto la sub. Ricky che ha regalato la sub a Bashful, Theodore che si è risubbato per cinque mesi, Aimper 5 bit, Ricky 100 bit, Daniel che si è risubbato per tre mesi, Luca Spadoni per i 100 bit, Gigio si è risubbato per tre mesi, Tio ti ha regalato una sub a Evil, Aimper 100 bit, Rosso per i 3 euro, Moreno che regala la sub a Denza, a Bone, a Rossi, contro l'Em, Sisa, Gallina 9 bit, Alan 10, Robit 35, Mollica per i 20 euro, Grazie Molli, Doc per aver regalato la sub a Gallina, Costanti per i 10 euro, a Bone per i 20 bit, due piedi che regala la sub a Ste e a Martis, Luke 29 mesi di sub di fila, Grazie Milla di Luke, Don Ludo 25 mesi di sub, Liezar per il ride, i termosifoni per il ride con 233 e 195, perché cretino si è dimenticato a ridearmi, in senso, grazie Milla di Liezar, Tavolo per la sub, ringrazio sempre Tavolo, uno dei primi con cui ho fatto gruppo nel 2015, AIMPE per il ride, ALEFRAI per il ride, Daniel Pazzo per i 50 euro, Luke 85 bit, Luke che era la sub a Elisa, Liezar e Alessia, e Alan per i 100, questo è quello che è successo in questa 12 euro, è finita, ufficialmente, sono le 22 e 30, e quindi ragazzi, è ora di chiudere, grazie, 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 ora magari non sembra, ragazzi, sono stanco, quindi questo, ne parliamo magari meglio domani sera, grazie, veramente, di cuore, ci sono stati tanti, non me lo aspettavo, ripeto, per essere un giorno lavorativo, perché, veramente, ci sono stati, tanti, dall'inizio, dall'estate mattina alle 10, ad adesso, alle 22 e 30, quindi, grazie per aver passato con me, questa giornata, questa giornata, per me di, di festa, ringrazio, saluto, Luke Sparo 84, ciao, che sei domani in live, alle 7, ai 19, già da 13, Giacomino, domani alle 21 e 30, grazie mille Giacomo, prego, prego Fabio, alle 21 e 30, Rikishimaru, domani sera, domani pomeriggio, alle 5, io vi aspetto, domani sera, alle 20 e 30, ragazzi, domani sera, capitemi, che non voglio farla, il pomeriggio, che voglio riposarmi, e poi c'è, ovviamente, il cross, che è dove, adesso, riporto, alle 22 e 30, signori, grazie, veramente, di cuore, grazie di cuore, poi vi faccio sapere, domani vi far parliamo, un poco, di come è andata, buonanotte, ragazzi, buonanotte, lascio la sigla finale, e vi ride o cross, scrivetegli, ce l'ho fatta, no, ce l'abbiamo fatta, che è anche merito vostro, quindi, scrivetegli, ce l'abbiamo fatta, come frase del ride, anzi, rispetto, mettete la demote che volete, sigla finale, mettete un orologio per lato, buco, buco, e vi faccio sapere, Grazie a tutti.